Il cinema italiano lo difendo perché anche qua con coraggio, eroismo, con la qualità della proposta, la qualità degli attori, perché anche questa leggenda che non ci siano attori in Italia a me mi ha proprio stufata, perché c'è un sacco di gente di qualità, di valore, ci sono registi straordinari come Virzi, come tanti, voglio dire possiamo citare un elenco infinito, ma anche gli attori, anche le attrici, basta andare un po' a teatro, anche uno vede pure persone di grande qualità, allora cominciamo a volerci un po' più bene.